Signori, buongiorno e benvenuti sul canale del Master Kai. Io sono il Master Kai, il vostro ospite su questo canale e sono un master con più di 20 anni di esperienza tra master di sala in ludoteca, master responsabile per i tavoli in associazione ho quindi avuto la possibilità di esercitare l'arte del masteraggio in quelli che sono considerati i contesti più difficili in cui si possa andare per giocare di ruolo. Per questo motivo io in questo canale parlo sì di gioco di ruolo in generale ma con un occhio di riguardo e un focus particolare su tutte quelle che sono le tecniche di mastering, cioè quello che un master, un facilitatore, un narratore come volete chiamarlo deve imparare per migliorare l'esperienza di tutti i giocatori al tavolo. Il canale è diviso in due rubriche principali, la prima, le fondamenta del dungeon, è quella in cui troverete tutte le informazioni su quelle che sono le basi teoriche dell'arte del mastering, da elementi di teoria narrativa a elementi di game design. Diciamo che questa è la rubrica in cui troverete tutte le informazioni che vi permettono di avere un'idea più chiara e comprensiva di quello che avviene dietro lo schermo del mondo del gioco di ruolo. L'altra, l'arte del masteraggio, è al contrario la rubrica in cui troverete tutti gli elementi pratici che vi serviranno per condurre il gioco al tavolo, da come inserire un nuovo personaggio nella quest a come orientare la narrazione verso un arco di storia o verso un esito ben preciso. Questa è la teoria di tutto quello che vi servirà sul momento mentre starete giocando al tavolo per non perdere il controllo di quello che sta succedendo. Ad affiancare queste due rubriche principali avremo poi la rubrica per i giocatori che, come si capisce dal nome, si concentra invece sul lato di giocare in un gioco di ruolo, soprattutto su quelle che sono le regole del vivere comune a un tavolo di gioco, queste ovviamente sono informazioni che servono anche al master ma sono riportate in un'ottica che riguarda specificatamente chi gioca ma non conduce il gioco. La rubrica sul D20 System in cui sono raccolte tutte le informazioni fondamentali su quella che è la D20 System SRD 3.X che è il motore di gioco che ha avuto maggiore successo per quanto riguarda il gioco di ruolo tradizionale che poi è il mio principale ambito di competenza come master. Stiamo parlando di D&D 3, 3.5, Pathfinder 1 e di tutti quegli innumerevoli giochi che utilizzano una versione o l'altra di questo motore, principalmente usciti dal 2000 al 2010, più ovviamente tutta un'altra serie di rubriche minori che vanno da quella su come scrivere una quest, che in realtà è un raccoglitore dove ci sono tutti i progetti collaborativi creati assieme alla community del canale del master CAE, o a il generatore a Fallout Story, che è una miniserie autoconclusiva con un esempio pratico sia di gameplay sia di mastering in cui viene fatta vedere una quest minimale e tutte le decisioni di mastery che ci sono state dietro sia in fase di creazione che in fase di conduzione. E anche la rubrica del modellismo col master CAE che è quella in cui do una dimostrazione delle mie scarse abilità nella costruzione di elementi scenici per chi gioca in presenza e vuole avere un tavolo che faccia bella figura con gli altri giocatori. Questa è un'arte perduta nel mondo attuale di tavoli da gioco virtuali, ma è qualcosa che per me, che sono un master della precedente generazione, è ancora importante e uso questa rubrica per tenerne vivo il ricordo. Ovviamente il gioco di ruolo è di per sé un'attività collaborativa, quindi per vostra fortuna non vedrete sempre solo me su questo canale, ma periodicamente abbiamo collaborazioni con altri creator o con tutta la gente che nel corso degli anni è venuta a radurarsi intorno al canale a formare quella che per me è la miglior community che c'è, almeno per quanto riguarda YouTube Italia per il gioco di ruolo e che è fatta da gente veramente strana che è sempre pronta a seguirmi ogni volta che propongo il progetto sperimentale più strano possibile, che poi questi progetti servono più che altro a noi per fare i cretini e in realtà uno sviluppo totalmente occidentale. Se siete arrivati a questo punto del video di presentazione è evidente che il gioco di ruolo e i canali che ne parlano vi interessano, quindi non posso far altro di dirvi di iscrivervi per entrare anche voi a fare parte della community del canale e schiacciare la tampanella per ricevere le notifiche. Ma dato che so che molto spesso le notifiche non arrivano, in descrizione di questo video troverete i link al server di Discord e al gruppo di Telegram dove metto io manualmente le notifiche ogni volta che esce un nuovo video e dove potete trovare anche tutti gli altri personaggi bislacchi che girano intorno al canale nella sua community. Per questo video di presentazione è tutto, io sono il Master Ka e noi ci vediamo nei prossimi video.